Grazie a tutti del ciclo di Catechesi sulla Divina Volontà che ci accompagna ormai da diverso tempo e oggi faremo un passetto ulteriore la volta scorsa abbiamo concluso se ricordate, corrigendo un passo molto importante del quattordicesimo volume che dava un'idea sintetica e riepilogativa di quello che è la vita nella Divina Volontà quindi il senso della vita nella Divina Volontà in particolare abbiamo visto tutti quanti gli atti che vengono moltiplicati nel Divino Volere dall'operazione dell'unione con la Divina Volontà fatta da prima da Gesù, poi da una Madonna e poi la prima persona a farlo è stata Luisa e da quel momento in poi tutti quanti noi, tutti coloro che entreranno nel Regno della Divina Volontà hanno il potere e se lo ritengono appunto opportuno di vivere in questo mondo quindi di unire i propri atti al Volere Divino per far scorrere e riparare quindi come ha fatto l'esempio delle tracce che si sovrappongono tutti quanti gli atti compiuti degli esseri umani al di fuori o contro la Divina Volontà procurando in questo modo non soltanto una grandissima santificazione personale perché i nostri atti diventano tutti quanti completamente divini ma anche contribuendo non poco al bene e alla salvezza dell'umanità cioè il Regno nella Divina Volontà con questa forma nuova di pregare attira una quantità davvero smisurata di grazie sulla Chiesa e sul mondo io mi permetto ancora prima di andare avanti ulteriormente di rivadire l'importanza di questo la cosa più importante da fare per tutte le situazioni nessuna esclusa è pregare pregare molto e riparare in modo particolare per chi professa vita o devozione mariana sono molte persone a farlo sono poche persone però ad avere lo stile di Maria Santissima che non ci vuole molto a comprenderli basta semplicemente considerare e pensare quello che la Madonna dice insegno ho fatto tante conferenze su tante apparizioni mariane la maggior parte delle quali riconosciute dalla Chiesa dove la Madonna è esorta in continuazione a pregare e fare penitenza se noi chiosiamo e fare penitenza con riparare diciamo la stessa cosa insomma e teniamo presente che la forza riparatrice degli atti nella divina volontà è immensa ed è anche come dire intrinseca cioè mentre ordinariamente un gesto di riparazione generalmente è sempre un gesto penitenziale noi possiamo come dire attrarre assorbire nell'orbita della riparazione anche i gesti più normali più comuni persino respirare perché se la mattina io faccio l'atto preventivo e dico sia il mio respiro nel mio respiro fondo il mio respiro con il mio respiro questo è l'atto di fusione uguale il mio olfatto con il tuo olfatto quando io respiro il problema è crederci o non crederci cioè quel respiro che è un atto inconscio addirittura ha tratto nell'orbita del volere divino non soltanto che diventa un atto meritorio ma diventa un atto super meritorio perché ripeto diventa un atto divino quindi teniamo presente sempre queste queste cose appunto con estrema attenzione perché ripeto qui si entra in un modo in parte in un modo di concepire la vita è un mondo divino ecco io questo è ciò che ho avuto sempre molto molto chiaro fin dai primi passi che muovevo in questo in questo in questo mondo essendo un mondo divino lo vedremo poi no da oggi insomma vorrei cominciare una serie di una un'ultima parte diciamo così di questo ciclo di catechesi dedicato anche questo abbastanza ampio alla lettura come dire di una serie di brani scelti chiamiamoli così allora premesso che i 36 volumi sono un capolavoro e non esiste un brano come dire assolutamente più importante o più bello dell'altro certamente ce ne sono alcuni che sinteticamente quindi pur nelle poche battute di un brano che è sempre di una due pagine di libro normale insomma 3-4 di libro in formato digitale alcuni di questi brani contengono delle sintesi davvero come quello che abbiamo letto la volta scorsa molto molto profonde cioè in poche battute ti portano molto in alto e ti fanno comprendere molto bene alcune cose ecco da oggi vorrei iniziare una serie di letture anche se tutti quanti sono importanti per esempio ci sono dei passaggi per capire un pochino l'habitat che si respira in questo nuovo mondo dove per esempio Gesù spiega e fa comprendere quanto nel mondo della divina volontà non esiste ma non esiste quella che si chiama tecnicamente la turbazione il turbamento non soltanto che uno non si agita non si arrabbia ma non esiste proprio nemmeno il turbamento l'agitazione l'inquietudine cioè queste cose non sono mai cose dove Dio c'è non ci sta Dio nel turbamento non c'è mai nell'agitazione nella concitazione non c'è d'accordo quindi non è detto che ci sia cioè si può essere semplicemente una volontà umana disordinata d'accordo o concitata non è detto che ci sia il diavolo in persona anche se il diavolo come sappiamo è il re del turbamento uno dei segni della presenza del demonio è proprio questo è il turbamento è l'agitazione che si prova in sua presenza o dinanzi alle sue opere tutto questo in Dio non c'è quindi quando uno impara e comincia ad entrare nel regno del divinvolere un po' per dono un po' per acquisizione si ritrova a vivere per esempio in una profonda e surreale per certi aspetti specie per chi non ci è abituato pace d'accordo perché uno se si comincia ad affacciare in questo mondo ripeto il turbamento non c'è in Dio non esiste d'accordo e secondo come Gesù tra l'altro insegna e questo fin dai primi volumi dei 36 quindi fin dai primi dieci in cui c'è quella che io chiamo la preparazione al regno della divina volontà la lunga scuola che Gesù ha fatto fare a Luisa prima di iniziare a parlargli esplicitamente di ciò di cui stiamo parlando e questo ci ricorda sempre che non si entra in questo mondo così d'accordo o molto semplicemente o dall'oggi al domani da un lato è molto semplice dall'altro richiede però un'attrezzatura come dire acquisita solida ecco perché qui stiamo alla sublimazione della santità che non è il bypassamento del percorso comune di santità è il superamento ma il superamento come dire che contiene il precedente per far capire è come quando uno cioè da diacono diventa prete allora il prete è un'altra cosa perché il prete ha carattere sacerdotale il diaconato no il diaconato è per il servizio però un prete prima diventa diacono quindi necessariamente passa per per il diaconato questo anche a far ricordare al prete che io dico sempre lui è prete da diacono cioè quello che ti dicono diventi preacono che tu sei rappresenti nella comunità Gesù servo quindi che non è venuto per essere servito ma per servire eccetera eccetera poi lo vivrai dai preti lo vivi pure da vesco e lo vivi pure da papa perché il papa è anzitutto diacono nome scandalizzato lui si autodifinisce il pontefice il servo dei servi di Dio quindi è il super diacono eppure ha la pienezza dell'ordine sacro in quanto vesco perché appunto il biscopato è come dire il top il massimo la pienezza del carattere sacerdotale del sacerdozio ministeriale d'accordo quindi il regno nella divina volontà la vita nella divina volontà presuppone come un dato acquisita acquisito il percorso ordinario di santità ecco perché questa è veramente una via divina ed è una via sicura d'accordo è una via sicura perché passa per un sentiero certo battuto qui dentro non ci può entrare niente che sia realmente dannoso nocivo per l'anima a meno che uno come il diavolo non smette mai di fare non stravolga qualche cosa e vedremo se leggeremo un pochino di passaggi un po' un po' così è possibile farlo perché purtroppo il travisamento come dice San Luigi Maria Monfort il diavolo non si preoccupa di falsificare il bronzo d'accordo il bronzo che lo falsifica fa non vale niente a volte non si spreca neanche a falsificare l'argento cerca di falsificare l'oro e come San Luigi Monfort nel tratto della vera devozione mostra come il demonio ha veleni la devozione alla madonna creando una montagna di false devozioni perché perché nessuno segue la vera d'accordo perché se uno vede un falso devoto alla madonna dice ah questo significa essere devoti alla madonna ma allora la madonna non serve a niente nella vita anzi serve a fate perdere la testa serve a fate scemire appresso alle stupidaggini e così non vado più appresso neanche a quella vera e questo è certamente un'operazione demoniaca no e San Luigi spiega dice il demonio saccharisce in particolare con le false devozioni alla madonna perché la vera devozione alla madonna è oro e se io falsifico l'oro ho fatto una grande operazione a falsificare l'argento e il bronzo neanche me lo pensate che la vita nella divina volontà come abbiamo visto in alcuni passaggi e come dire contiene in sé presuppone tra l'altro anche l'essenza della consagrazione totus tuus perché alcuni fondamenti sono completamente identici immaginiamo quanto il demonio cerchi di ecco con queste considerazioni mi sta venendo in mente di fare la quarta parte insomma del ciclo di catechesi con le false come dire le false presentazioni della divina volontà sarebbe interessante questo in un modo così temporaneo insomma ecco per premunire dopo aver detto ciò che la divina volontà e la vita nella divina volontà è andiamo a specificare ciò che la vita nella divina volontà non è d'accordo e quali sono le malsane a volte considerazioni o conseguenze che si traggono da travisamenti di alcuni passaggi molto belli ma molto delicati di alcuni scritti di Luisa no? ecco come per esempio quando Gesù dice eh ed è vero che nel regno della divina volontà non può entrare il peccato perché non ci può entrare nell'interno del peccato d'accordo il diavolo scappa dinanzi a questo questo non significa che non serva più il sacramento della confessione anche perché il sacramento della confessione la Chiesa l'ha sempre raccomandato e l'uso frequente che per chi vuole diventare santo deve essere molto frequente ma il sacramento della confessione è stato utilizzato anche da anime che non commettevano il peccato sempre l'esempio di Santa Gemma ma soltanto una serie di imperfezioni perché il giotto della confessione possono e devono essere le imperfezioni cioè un figlio del Dio in volere si confessa e impara a confessarsi evidentemente in maniera un pochino distinta da chi non è in questo mondo semplicemente perché dovrebbe aver risolto alcuni problemi ma non vuol dire che è arrivato non è che qui tu diventi il padre eterno in terra infallibile impeccabile non sta scritto da nessuna parte questo tu continui a mantenere le tue debolezze le tue miserie le tue imperfezioni puoi fare qualche peccato veniale quantomeno semideliberato e se cominci comunque ad analizzare bene tutta la montagna di peccati di imperfezioni che si fanno soltanto col pensiero ti fai la confessione lunghe mezz'ora d'accordo quindi anche se la materia della confessione non è l'offesa a Dio in senso stretta in senso stretto al quale il peccato che già in un percorso autentico di santificazione dal momento di tendere alla santità o di tendere alla perfezione dice San Giovanni nel nuovo testamento che chiunque è nato da Dio non pecca non pecca in senso stretto cioè non commette il peccato ad occhi aperti sia in materia grave peccato mortale sia in materia lieve che peccato veniale cioè una persona che ama Dio non pecca ad occhi aperti come si dice in letteratura spirituale non lo fa commette peccati dovuti alla debolezza alla fragilità alla miseria e quando riesce a controllare anche questi come deve come può e deve fare tipo le perdite di pazienza tipo l'ira tipo la gelosia tipo l'invidia tipo la superbia in varie sfaccettature comincerà ad andare a controllare anche le sfumature le pagliuzze le piccolezze che possono sembrare cose piccole ma cose piccole non sono capite anche perché più luce arriva dentro l'anima come dice anche la buona Santa Teresa più si fanno presenti anche le piccole polverine che sono sulla nostra stivania piccole polverine che vanno portate davanti a Gesù e insomma Gesù fece una confessione a Luisa si legge negli scritti durata sette ore ecco quindi io dico sempre dico sette ore di confessione a Luisa Piccarreta che esame di coscienza gli avrà fatto nostro signore ma Santa Veronica Giuliani fece una confessione se uno lo legge assolutamente come dire sconvolgente insomma e quindi dov'è che non c'è la confessione regno di una volontà la confessione non solo che c'è c'è più e meglio è fatta ancora meglio perché deve portare alla misericordia di Dio anche quei piccolissimi ambiti settori spazi fessure in cui il divinvolere non c'è entrato e non c'entrerà mai fino a quando siamo in questo mondo perché nessuno di noi sarà mai come la Madonna che comunque sia pur entrando nel divinvolere pur rinnovandosi in un certo senso la condizione dell'uomo nell'Eden però non c'è come dire una distruzione piena totale e assoluta a meno che Dio non faccia un dono straordinario in questa vita di tutte quante le conseguenze del peccato originale e quindi il sacramento della confessione rimane costitutivo e quindi la penitenza e la mortificazione cristiana rimangono pienamente costitutivi io già ho sentito alcune cose ma se io sentite se io faccio un'azione indifferente tipo spostare un oggetto e lo unisco al divinvolere quindi questo spostamento di oggetto assume valore infinito eterno immenso d'accordo e quindi anche una portata riparatrice infinita non serve fare penitenze perché basta che sposto il telefono un apposto all'altro e ho già fatto tutto no no questa è un'altra come dire satanica illusione e travisamento integrale ecco della bellezza di questo mondo quindi mi sta venendo insomma ecco con questa introduzione di oggi una mezza idea forse di dedicare magari una delle ultime puntate a ciò che non è la vita nella divina volontà ecco ed alcune tentazioni e rischi da cui fare attenzione ecco perché io so ho parlato anche con grandi esperti molto più grandi di me e ho detto che ce ne sono tanti in questo in questo in questo mondo del divinvolere e ci sono state insomma già episodi in alcune parti forse dell'America non ho capito bene se siete dell'America dove qualche ecco e persona un poco poco cattolica d'accordo io oserei dire perché una cosa fondamentale teniamola presente attenzione chi vive nella divina volontà è più devoto alla chiesa cattolica mi si capisca bene d'accordo quasi più devoto alla chiesa cattolica che alla madonna penso che tutti quanti conoscano l'amore e il bene che voglia la madonna e quindi il senso di questa affermazione iperbolica no ecco nel senso che la chiesa non si tocca la chiesa cattolica non si tocca il magistrato della chiesa non si tocca l'istituzione divina della chiesa non si tocca chiaro? perché? perché se la tocchi esci subito fuori dalla divina volontà perché la chiesa l'ha fondata nostro signore Gesù Cristo su Pietro e sui dodici apostoli con delle promesse ben precise io purtroppo sono purtroppo ho studiato il vescovo ho fatto studiare a suo tempo dogmatica con specializzazione in ecclesiologia per cui qui si entra in un ambito proprio infatti ci ho cominciato gli incontri di catechismo per gli adulti che andranno avanti per un paio di anni sulla chiesa per chi lo legge adesso ho cominciato anche gli articoli di dogmatica sul settimanale di Padre Pio sulla chiesa perché è importante averci sempre le idee chiare allora se tu ti muovi anche di una virgola da Santa Madre Chiesa è finito il regno della divina volontà proprio finito finito ecco e tanto più è finito quanto più in certi momenti stare al 100% nella chiesa costa sacrificio e costa fatica d'accordo fa niente ecco sarà quella la penitenza che il Signore ci chiede in quel dato momento storico ecco che significa guai 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 non c'è un accordo divina volontà senza la chiesa perché la chiesa esiste per volontà divina la costituzione della chiesa che ne pensi nei suoi nemici è divina non è umana certo nella chiesa ci sono gli uomini gli uomini di chiesa d'accordo e i figli della chiesa che possono non essere all'altezza della vita ecclesiale questo dogmaticamente è chiarissimo ma la chiesa in quanto tale la sua struttura non si tocca chiaro e non si tocca perché quella è divina cioè Gesù Cristo non si neanche concepisce senza la chiesa d'accordo in paradiso c'è la chiesa nel mondo che verrà ho scritto l'altro giorno un articolo che era l'ultimo sui nuovissimi cosa c'è la nuova Gerusalemme è la chiesa formata da tutti coloro che hanno aderito al Vangelo di Gesù e si sono conservati fedeli quando qualcuno ha qualche problema che vede qualche cosa che non funziona stia tranquillo sul pianeta Terra ci dobbiamo stare 50 60 70 80 anni la chiesa non è solo quella che vediamo qua giù questa è la chiesa militante questa è la chiesa peregrinante la chiesa sottoprova in lotta ma c'è la chiesa già la parte più bella della chiesa che sono quelli che già stanno in paradiso e ci sono quelli che hanno raggiunto la salvezza nel purgatorio c'è la chiesa burgante e c'è la chiesa trionfante d'accordo? ma se tu non fai parte della chiesa col corpo o col cuore questo poi è un altro discorso che approfondirò negli articoli con gli incontri di catechismo tu in paradiso non ci entri e quindi la divina volontà la conoscerai mai perché in paradiso entra solo chi fa parte dell'unica chiesa di Cristo esplicitamente o implicitamente capito? compresi i membri che possono raggiungere la salvezza delle altre confessioni non cattoliche compresi i membri delle altre religioni comprese le persone che cercano Dio senza trovarlo ma che agiscono in base ai dettami della propria coscienza come spiega bene il magistrato della chiesa che possono raggiungere l'eterna salvezza ma tutti questi possono raggiungere l'eterna salvezza per il ministero universale di Cristo redentore e per l'opera di mediazione universale della chiesa e in quanto incorporati o incorporandi alla chiesa questo sia chiaro questo qui quindi questo è un criterio di discernimento fondamentale mi comincia a dire così come quando Gesù spiega molto opportunamente questo è un altro passo scelto che leggeremo che la comunione con la sua divina volontà è ancora più grande della comunione sacramentale lui lo spiega benissimo in che senso tra l'altro un senso molto importante e molto formativo quando ne parleremo avremo molto da dire ma questo non vuol dire che non si debba fare la comunione sacramentale stai scherzando un figlio della mia volontà la comunione va tutti i giorni se può e se non la fa d'accordo non è che non lo fa perché disprezza il sacramento ma non lo fa per altri motivi voi poi parleremo a suo tempo santi motivi di non accostarsi alla comunione sacramentale capito non perché non serve la stiamo scherzando cioè Gesù Cristo si deduce un sacramento e non serve capito tutte queste cose strane lo dico sempre per mettere immediatamente stanno fuori del mondo così come alcune come dire forme di eccessiva banalizzazione del regno nella divina volontà come se per vivere nella divina volontà basta che dici l'atto preventivo l'atto di fusione ogni tanto che ti ricordi fai qualche atto di fusione o di una divina volontà e poi la tua vita è un disastro totale questo è chi dice questo e poi porta in giro questo fa un pessimo servizio a questa cosa qui perché la rende ridicola la rende capite assolutamente vi parlo con esperienze ho avuto già modo di conoscere alcune persone un po' esaltate un po' fanatiche più che altro illuse che si pensano che tutto quello che consiste nel regno della divina volontà sia questo capito poi vedi i comportamenti che hanno le cose inqualificabili insomma che ho visto fare ad alcuni di questi soggetti sono convintissimi che loro sono entrati nel regno della divina volontà eccetera eccetera capite quindi purtroppo figlioli miei cari non esiste luogo dove le zampacce anacquate del diavolo non si allunghino per sporcare alterare macchiare corrompere eccetera neanche questo anzi essendo questa forma di vita veramente sublime perché è la vita di Gesù e della Madonna messa diciamo a nostra disposizione per condividerla non c'è niente a mio avviso che sia tanto attaccato dal nemico quanto questo d'accordo quindi con questo attenzione poi faremo modo ecco forse con questa non volevo oggi fare questo 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 overture questa specie di di arringa apologetica però qui ci ha portato la divina volontà veniamo ad oggi vorrei leggere oggi volevo leggerne un paio penso che ne leggerò soltanto uno un paio di scritti anche questi molto significativi e molti e molto emblematici uno riprende non poco il tema che abbiamo visto la volta scorsa quindi famosi atti triplici lo vorrei leggere e poi commentare il brano è sul volume quindicesimo 24 gennaio 1923 si legge tutti questi giorni li ho passati in un mare di amarezza perché spesso spesso il benedetto Gesù mi priva della sua amabile presenza e se si fa vedere lo vedo nel mio interno immerso in un mare di cui le onde si innalzano sopra di lui in atto di sommergerlo e Gesù per non restare sommerso e affogato muove il suo braccio respinge l'onda e con occhio pietoso mi guarda mi chiede aiuto e mi dice figlia mia vedi come le colpe sono tante che mi vogliono sommergere non vedi le onde che mi mandano che se non agitassi il mio braccio resterei affogato che tempi tristi che porteranno tristi conseguenze e mentre ciò dice si nasconde di più nel mio interno che pena nel vedere Gesù in questo stato sono pene che straziano l'anima e la fanno a brandelli o come si vorrebbe soffrire qualunque martirio per alleviare il dolce Gesù onde questa mattina mi pareva che il mio amabile Gesù non ne poteva più e facendo uso della sua potenza è uscito da dentro quel mare pieno di tutte quelle armi atte a ferire anche ad uccidere che metteva terrore solo a guardarlo appoggiando la testa sul mio petto tutto afflitto e palido ma bello ed una bellezza che rapiva mi ha detto figlia diretta mia non ne potevo più e se la giustizia vuole il suo corso anche il mio amore vuole il suo sfogo e fare il suo cammino perciò sono uscito da dentro quel mare orribile che le colpe delle creature mi formano per dare il campo al mio amore per venire a sfogarmi con la mia piccola figlia della mia volontà anche tu non ne potevi più ho sentito il rantolo della tua agonia in quel mare orribile per la mia privazione ed avendo messo come da parte tutti sono corso a te per sfogarmi e farti sfogare in amore con me per ridarti la vita e mentre ciò diceva mi stringeva forte a lui mi baciava mi metteva la sua mano alla gola quasi per rinfrancarmi della pena che lui stesso mi aveva dato poiché giorno innanzi avendomi tirato forti i nervi della parte del cuore che corrispondono alla cuore resta come soffocata era tutto amore il mio Gesù e voleva che io gli rendessi i baci le carezze restrette che lui mi faceva onde dopo ciò ho capito che voleva che entrassi nel mare immenso della sua volontà per essere scusate che ho perso un attimo il segno per essere rinfrancato dal mare delle colpe delle legature ed io stringendomi più forte a lui ho detto dobbiamo ancora arrivare al punto che ci interessa questo è un lungo preambolo io ho amato bene insieme con te voglio seguire tutti gli atti che fece la tua umanità nella volontà divina dove giungesti tu voglio giungere anch'io per fare che in tutti i tuoi atti tu trovi anche il mio sicché come la tua intelligenza nella volontà suprema percorse tutte le intelligenze delle creature per dare al Padre Celeste la gloria l'onore la riparazione per ciascun pensiero di creatura in modo divino e suggellare con la luce con la grazia della tua volontà ciascun pensiero di esse così anch'io voglio percorrere attenzione ciascun pensiero dal primo all'ultimo che avrà vita nelle menti umane per ripetere ciò che sta fatto da te anzi voglio unirmi con quelli della Celeste Mamma che mai lascio dietro ma sempre corse insieme con te e con quelli che hanno fatto i tuoi Santi faccio notare come la tua intelligenza nella volontà suprema percorse tutte le intelligenze delle creature ed è l'intelligenza di Gesù che scorre nella divina volontà e raggiunge percorrendo le intelligenze di tutte le creature presenti passate e future per fare cosa per dare al Padre Celeste la gloria l'onore e la riparazione per ciascun pensiero di ogni creatura in modo divino come l'hai fatto tu ecco lo scorrere il vivere nella divina volontà così io anche io voglio percorrere ciascun pensiero dal primo all'ultimo che avrò la vita nelle menti umane per ripetere ciò che sta fatto da te grande giro ormai lo sappiamo con cui si dà riparazione soddisfazione e gloria all'Eterno Padre per tutti i pensieri balordi che sono tantissimi di tutte le intelligenze e le menti create a quest'ultima parola poi Luisa si associa anche alla Madonna che è stata la prima a rifare tutti gli atti di Gesù insieme con lui e Gesù le dice figlia mia nella mia volontà eterna troverai tutti gli atti miei come pure quelli della mia mamma che coinvolgevano tutti gli atti delle creature dal primo all'ultimo che dovrà esistere come dentro di un manto e questo manto come formato in due uno si elevava al cielo per ridare al Padre mio con una volontà divina tutto ciò che le creature gli dovevano attenzione amore gloria riparazione e soddisfazione e l'altro rimaneva a difesa ed aiuto delle creature nessun altro è entrato nella mia volontà divina per fare tutto ciò che fece la mia umanità questo è fondamentale questo passaggio cioè Gesù sta dicendo prima che lui facesse queste spiegazioni desse queste luci facesse comprendere il valore di questa cosa non c'è stato nessuno che ci abbia mai pensato ok non l'hanno fatto prima di Luisa perché non lo sapevano spiega i miei santi hanno fatto la mia volontà attenzione attenzione a questo passaggio che è fondamentalissimo ma non sono entrati dentro per fare tutto ciò che fa la mia volontà e prendere come dentro un colpo d'occhio questa è un'operazione che si fa in un istante tutti gli atti dal primo all'ultimo uomo e rendersi attori spettatori e divinizzatori allora spiego attori in che senso tu sei colui che agisce cioè entra nella divina volontà ok guarda con uno sguardo istantaneo tutto quello che la divina volontà ha fatto per tutti e prende questo e lo porta a tutti quindi continua a fare l'attore oltre che lo spettatore e divinizzatore perché immediatamente divinizza tutto queste sono operazioni spirituali figlioli miei cari cioè le persone molto umane carnali le direbbe san paolo materiali non ci capiranno niente lo dice anche gesù non capiranno una h d'accordo ma la quintessenza di ciò che fece gesù sulla terra è questo ecco perché per esempio non so se voi siete mai entrati in un monastero di stretta osservanza in un convento serio religioso cosa c'è lì dentro silenzio assoluto silenzio assoluto è cioè io ho frequentati ambienti dove veramente se uno va lì dentro e ci ha voglia di diventare santo ci diventa c'è silenzio assoluto ma il silenzio assoluto dice mamma che tristezza qua c'è un mortone non sta a fa niente nessuno se potessero parlare i pensieri ci sarebbe un chiasso che non finisce mai d'accordo perché il silenzio non è come quando dormiamo d'accordo che si sente niente si fa niente quello è un silenzio interiore è un silenzio mistico è un silenzio operante è come il silenzio di Dio che nel più assoluto silenzio esteriore fa miliardi di operazioni senza strepiti cioè mentre io sto parlando adesso in questo momento preciso è voi immaginate quante anime sta creando nostro signore adesso ora basterebbe sapere fare un conto di quanti sono quanti esseri umani nascono ogni secondo su pieni da terra si può fare sicuramente questo conto oggi e quanti ne muoiono e quanti giudizi particolari sta facendo in questo momento e soltanto in questo momento a quanti miliardi di pensieri e di azioni sta facendo attenzione capito cioè noi intanto ci dimentichiamo nel nostro nel nostro ristretto mondo umano oh noi stiamo a che fare con Dio d'accordo capito quindi queste sono operazioni divine queste qui capito che è stato a fare Gesù 30 anni di vita nascosta tutti quanti se lo chiedono se lo sono da sempre chiesti è stato 30 anni in vita nascosta a pregare a fare il falegname e va bene con questo ci fa comprendere simbolicamente tutto vero quello che sto dicendo l'importanza della vita nascosta il primato della preghiera e anche la santificazione ordinaria delle circostanze ordinarie della vita la santificazione della famiglia lui è vissuto da figlio di famiglia e del lavoro benissimo tutto vero ma non è abbastanza perché Gesù tutto quel tempo stava incessantemente a rifare tutti gli atti i pensieri le parole le azioni tutti quanti gli esseri umani in continuazione in atto di offerta in interrotta al padre di questo noi non ce lo possiamo immaginare perché non siamo capaci di avere questa linea diretta sempre coscientemente attiva con il cielo è un miracolo se abbiamo l'interruttore attaccato alla corrente d'accordo quindi anche quando non ci stiamo per la nostra limitatezza cioè io purtroppo adesso sto parlando quindi io non potrei in contemporanea proprio mentre sto parlando in contemporanea come dire connettermi con il nostro signore e dire viene divina volontà nella frase che sto per dire sto parlando non c'è Andrea il manicomio quindi lo faccio prima che inizi a parlare poi quando parlo certo che cerco sempre di conservare il senso della divina presenza stare attento però non è un'operazione esplicitata ora no se il signore mi concederà la grazia e ci fa un'ora della passione quando starò lì farò un bel giro nel fiat redimente d'accordo pienamente con la capoccia ecco però adesso sto parlando ecco allora proseguo col fare la mia volontà non si giunge a fare tutto ciò che il mio eterno volere volere contiene non si giunge ma esso scende nella creatura limitato quanto la creatura può contenere attenzione questo c'è tanto questo qui solo chi entra dentro la mia volontà si allarga si diffonde come luce solare sentite che bello negli eterni voli del mio volere e trovando i miei atti e quelli della mia mamma vi mette anche il suo guarda nella mia volontà ci sono forse altri atti di creatura moltiplicati nei miei che giungono fino all'ultimo atto che deve compiersi su questa terra è stupendo questo qui atti moltiplicati nei miei vuol dire che tu stai parlando e fondi il tuo parlare nella divina volontà cosa vuol dire che tu vai a prendere tutte le parole sante molto più sante delle tue che Gesù ha fatto nel divino volere queste parole che tu stai pronunciando diventano quelle di Gesù e si moltiplicano perché perché scorrendo nella divina volontà vanno a raggiungere riparandole le parole vane inutili o umane che hanno detto e dicono e diranno tutte le creature presenti passate e future quindi capisci un atto un discorso che tu stai facendo che è uno qui c'è il tema della moltiplicazione degli atti nella divina volontà e non voglio adesso andare troppo sul complicato ma è così ecco come fanno a succedere queste cose perché la volontà divina ripeto è eterna quindi simultaneamente istantaneamente contemporaneamente abbraccia tutto ciò che scorre nel tempo nel suo unico atto semplicissimo questo è Dio capite qui non stiamo facendo cioè attraverso questi discorsi si entra per quanto possibile la creatura mortale nel mondo divino ecco perché molti ci capiscono poco d'accordo perché già la fede oggi è poca quindi il nostro contatto col divino è sempre un pochino languido come dire più più che languido soffre abbastanza nella 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 scarsità nella insufficienza figuriamoci qui dentro che entri proprio nel mondo divino io mi rendo conto io ci capisco qualcosina poi ci si capisce sempre meglio più ci si entra anche in forza perdonatemi delle conoscenze teologiche che ho d'accordo senza quelle sarebbe un pochino più complicato io mi chiedo sempre come fa cioè che capite come può una persona con la prima elementare scrivere queste cose come può cioè ma neanche con tutta la fantasia di questo mondo d'accordo non è proprio possibile capito perché la profondità di queste cose qui ripeto non ci arrivano se non fanno attenzione neanche i più sottili e raffinati teologi a ste robe qui capite quindi una donnetta con la prima elementare con tutto il rispetto questa è una gigante di santità non può scrivere queste cose non lo scrive eppure stanno scritte e questi scritti sono suoi ecco allora guarda nella mia volontà ci sono forse altri atti di creatura li leggo così lo comprendiamo moltiplicati nei miei che giungono fino all'ultimo atto che devi compiere su questa terra cioè se io prima di parlare oggi ho unito questo mio parlare come spero di aver fatto nella divina volontà questa catechesi che sto facendo oggi unita alla divina volontà porterà effetti benefici a un uomo che parla e che vivrà nel 3728 tanto per fare un esempio capito? perché l'uomo che vive nel 3728 è futuro solo per me ma nella divina volontà è già in atto io spero che lo capisco che sono concetti grossi questi qui ma è così ripeto atti di creatura moltiplicati nei miei che giungono fino all'ultimo atto che deve compiersi sulla terra questo significa guarda bene non ne troverai nessuno attenzione qui Gesù è apodittico è come dire è perentorio è tassativo prima di allora nessuno guarda bene non ne troverai nessuno ciò significa che nessuno è entrato nel mio volere allora significa nessuno nessuno questo scritto è del 1923 ok solo era riservato ad aprire le porte del mio eterno volere alla piccola figlia mia voi pensatevi a questa parola donnetta cioè come dire i grandi della terra si sente di queste cose era riservato da lui le porte del mio eterno volere alla piccola figlia mia improvata immaginarvi una persona così semplice così umile così devota ma anche veramente apparentemente di poco conto agli occhi del mondo si sente dire queste cose qui non c'è mai entrato nessuno era riservato cioè quindi questa è una cosa che la Santissima Devità aveva pensato da sempre di aprire le porte del mio eterno volere quando ecco il 24 gennaio del 1923 ho fatto sto discorso non prima ma come San Francesco non le sapeva queste cose San Francesco non le sapeva queste cose Padre Pio che era contemporaneo di Luisa se qualcuno non gli ha retto gli iscritti non li sapeva d'accordo perché ancora non erano pubblicati quindi probabilmente non li sapeva e San Pio X che non li sapeva e Sant'Alfonso Maria del Riguori non li sapeva non li sapeva allora era riservato ad aprire le porte del mio eterno volere la piccola figlia mia per unificare i suoi atti ai miei e a quelli della mia mamma vedete e rendere tutti gli atti nostri attenzione triplici innanzi alla Maestra Suprema e a bene delle creature perché perché sono gli atti fatti da Gesù gli atti fatti da Maria Santissima e gli atti fatti da Luisa e dentro questa terza traccia l'abbiamo visto la volta scorsa se vogliamo centriamo noi con i nostri atti io spero che un giorno possa dirmi il nostro signore perdonatemi insomma perché a provare uno ci prova poi se ci riesce e rendere utili tutti gli altri tra le terze tracce ci sei anche tu caro mio sacerdote sarei felicissimo di questo ecco ora avendo rendere tutti gli altri nostri triplici innanzi alla Maestra Suprema e a bene delle creature capite a bene delle creature non pensiamo neanche per un millisecondo che chi va davanti al Santissimo Sacramento e va a farsi un giro come questo comincia per esempio a voler santificare entra nel divino volere prende gli atti pensieri di Gesù e li porta per tutti gli elementi per santificare i pensieri li porta nelle parole per santificare le parole li porta nelle opere ma qui si sta da fare tantissimo non faccia niente sia uno di quelli che oggi viene accusato perché non si muove sta inerte dinanzi ai grandi problemi ma che i più grandi operatori e solutori dei problemi è chi fa queste cose non dimentichiamo che la più santa di tutte che è Maria Santissima apparentemente nella sua vita ma scusate un attimo nella vita terrena sul pianeta terra se poi sapete che ha fatto la Madonna qualcuno sa dare una risposta oltre va bene ha concepito il figlio di Dio l'ha fatto nascere poi l'ha fatto crescere poi i Vangeli non dicono niente non dicono niente della vita pubblica della Madonna dicono c'è stata a Cana solo San Giovanni e sotto la croce poi presente a Pentecoste e poi che fine ha fatto la Madonna sappiamo che è vissuta con San Giovanni ad Efeso per una parte della sua vita e che ha fatto qualcuno mi faccia capire che ha fatto durante la vita terrena la Madonna di così eclatante non era sacerdote non era vesco non era cardinale non predicava non ha fatto a quanto pare miracoli almeno eclatanti che cosa ha fatto la Madonna durante la vita del pianeta terra vediamo qualcuno mi dica qualcosa allora vogliamo andare a dire alla Madonna che la sua presenza sulla terra è stata inutile che non ha fatto niente per la chiesa dobbiamo dire così o forse è quella che ha fatto più di tutti pur senza fare le cose pur necessarie per carità ma non è che io che sono prete mi chiudo dentro lo Santissimo Sacramento non dico più la messa non vado più a benedire case non amministro più l'olio santo non predico più perché devo fare i giri nel divino volere per carità il prete deve fare comunque il prete d'accordo poi bisogna vedere come lo fa il prete la madre deve fare la madre il padre deve fare il padre il marito deve fare il marito il lavoratore deve fare il lavoratore eccetera eccetera ma di fronte alle grosse cose che cosa si deve fare come risponde un figlio del divino volere vivere nella divina volontà punto e moltiplicare gli atti di Gesù punto questa è la prima cosa punto le altre cose si fanno sempre dopo e dopo aver fatto un serio discernimento sui divini voleri cioè se veramente Dio voglia che si agisca in un certo modo in un certo stile si faccia una certa cosa oppure no ponderando con discernimento in base alla pace che senti nel cuore se è da farsi o non è da farsi oh ecco proseguo la lettura onde ho proseguito insieme con Gesù a girare nella sua volontà per fare ciò che stava fatto da lui poi abbiamo guardato insieme la terra sentite quante cose orribili si vedevano e come proseguono i preparativi di guerra che fanno raccapricciare stiamo nel 24 d'accordo 1924 tutta tremante mi sono trovato in me stessa onde poco dopo Gesù è ritornato ed ha proseguito a parlare della sua santissima volontà dicendomi figlia mia la volontà mia nel cielo conteneva il padre e il figlio e lo spirito santo questo è un passaggio stupendo attenzione una era la volontà delle tre divine persone mentre erano distinte tra loro attenzione ma la volontà era una una e questa essendo la sola che agiva in noi formava tutta la nostra felicità eguaglianza d'amore di potenza e di bellezza quindi capite una sola volontà per tre persone divine se invece di una volontà ci fossero tre volontà non potremmo essere felici non potevamo essere felici Gesù parla oh parla degli appari suoi eh del lui del padre dello spirito santo è soltanto lui queste cose qui e molto meno rendere felici gli altri saremmo stati ineguali nella potenza nella sapienza nella santità sicché la nostra volontà una sul testo una scritto in corsivo agente in noi è tutto il nostro bene da cui scaturiscono tanti mari di felicità che nessuno può penetrare fino al fondo domanda questi mari di felicità secondo noi sono vivibili sul pianeta terra o bisogna aspettare ad andare in paradiso la risposta che si ha in questi scritti è che questi mari di felicità la Madonna li viveva sul pianeta terra certamente insieme al mare di dolore che è uno dei significati del suo nome benedetto perché Maria Mariam in ebraico è proprio letteralmente mare amaro d'accordo? quindi un oceano di amarezza ma insieme a questa la Madonna viveva tanti mari di felicità che se li potessimo conoscere rimarremmo con due occhi così e non sono diritto esclusivo della Madonna in quanto immacolata d'accordo? anche se è evidente che come e quanti li ha vissuti lei non li verrà mai nessuno ma sono proporzionali a come e quanto la nostra volontà vive ed è unita a quella divina che in se stessa è amabile e ammirabile e fuoriera di ogni felicità ora la nostra volontà vedendo il gran bene dell'agire sola in tre persone distinte vuole agire sola in tre persone distinte in terra guardate che bello e queste sono la madre il figlio la sposa attenti che Luisa Piccarreta primo volume ebbe il matrimonio mistico con Gesù celebrato prima in privato e poi davanti a tutta la corte celeste andatelo a leggere quindi madre figlio e sposa attenzione e da queste vuol far scaturire altri mari di felicità che porteranno ben immensi a tutti i viatori ok ce ne sono tre c'è l'uomo dio dio per natura è Gesù Cristo c'è la donna priva della colpa d'origine la nuova Eva la numero due e poi c'è un individuo della razza umana segnato dal peccato originale che era Luisa e in lei tutti coloro che le avrebbero fatto seguito quindi come la divina volontà scorre una nelle tre persone divine così vuole scorrere una in tre persone distinte in terra madre figlio e sposa intendendo che sposa ogni anima che pur se non avrà la grazia dio volesse che ce l'avessimo tutti del matrimonio mistico tuttavia vivrà unita al divino volere ed io tutta meravigliata ho detto ad un'umiltà di amore mio ma chi sarà questa madre fortunata figlio e sposa che adombreranno la trinità sulla terra e che la tua volontà sarà una in loro non ha capito e Gesù ma come non l'hai capito due già sono al loro posto d'onore la mia mamma divina è Dio verbo eterno figlio del padre celeste e figlio della madre celeste con l'incarnarmi nel seno di lei fui suo proprio figlio la sposa è la piccola figlia del mio volere sei tu mi sta dicendo io ci sono nel mezzo la mia mamma a destra e la sposa a sinistra e come la mia volontà agisce in me fa l'ego a destra e a sinistra e ne forma una sola volontà perciò ho versato tante grazie in te ho aperto le porte del mio volere ti ho svelato i segreti i prodigi che esso contiene per aprire tante vie per farti giungere l'eco del mio volere affinché sperdendo il tuo potessi vivere con la sola mia volontà non ne sei contenta ed io grazie Gesù e fa ti prego che io segua il tuo volere ecco la chiusa di questo discorso di Gesù possiamo sentirci rivolti a ciascuno di noi nel nostro piccolo ecco chi apre le porte a questo mondo ormai è tutto scritto si tratta semplicemente di andarselo a leggere a studiare a meditare d'accordo ho versato tante grazie in te con il dono degli iscritti della divina volontà sto chiosando e personalizzando la frase di Gesù per aprire tante vie per farti giungere l'eco del mio volere affinché sperdendo il tuo potessi vivere con la mia volontà sei contento ti interessa ti piace bene allora buon viaggio nel rendito di involere perché non ci sono porte chiuse a priori l'accesso non è un gioco da ragazzi d'accordo non è una cosa da nulla come abbiamo visto non ne vanno travisati i contenuti ma è un mondo divino accessibile a chiunque desideri accostarvisi che è l'augurio che faccio a tutti voi insieme al darvi l'appuntamento per chi crede alla prossima settimana Ave Maria